Refugee SCART è un progetto assolutamente geniale perché nasce da un'idea semplice, cioè che i rifugiati attraverso un'azione diretta che va a beneficio della comunità fanno anche del bene a loro stessi, quindi ci guadagnano i cittadini perché i rifugiati vanno a raccogliere le plastiche che sporcano la città e al tempo stesso però ci guadagnano loro stessi perché riescono poi a fare degli oggetti molto belli, facilmente vendibili e questo per loro dà un senso di utilità, di utilità di appartenenza, utilità verso la comunità che li ha ospitati ma anche verso le loro stesse famiglie che spesso sono rimaste a casa e che hanno bisogno di essere sostenute. Quindi un progetto utile, bello, c'è un design, c'è una tecnica e c'è un valore aggiunto, quindi direi che è un progetto che deve essere assolutamente sostenuto. Grazie. 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 Grazie.